Leonardo Silva Revisore Buonasera, io mi sono fatto un po' di domande in questo periodo e ho incominciato a chiedermi ma come è possibile che nel mondo ci siano quasi un miliardo di persone che soffrono la fame e nello stesso tempo quasi un miliardo di persone obese e in sovrappeso? La prima domanda non troverà risposta questa sera è troppo complicata ma ho incominciato a chiedermi invece perché noi tendiamo a ingrassare sempre di più questo perché stiamo parlando di noi, di noi che siamo qui di noi occidente ricco, benestante dipende dal fatto che mangiamo troppo, dipende da cosa mangiamo è difficile dare una risposta so che stiamo diventando sempre più dipendenti dal mangiare qualche sera fa ero a cena dal mio amico Giovanni Giovanni è diabetico, sovrappeso da anni ha da poco avuto un infarto non sapevo cosa portare perché sai dici vino non si può super alcolici non si può il dolce non si può alla fine ho portato dei fiori ha aperto la moglie e ha iniziato a starnutire perché allergica al polline comunque al di là di tutto pensavo sarà un'ancena un po' frugale lui nel suo stato non potrà mangiare niente era l'unico che mangiava tutto ma tutto gli ho detto Giovanni con quel che hai avuto fai lo so ma a me più mi si chiudono le arterie più mi si apre lo stomaco e giù una badilata di risotto ai funghi la cosa incredibile è che mentre lui mangiava di tutto il resto della famiglia era a dieta la moglie dieta in bianco perché la gastrite poi c'era la figlia vegetariana che è arrivata il secondo e ha detto papà non ti dico di fare come me ma la carne ti fa male almeno mangia pesce lui ha vitello tonnato più pesce di così papà ma la carne un giorno dopo l'altro ti uccide sì ma se devo mangiare miglio come fai tu mi uccido io non negli anni dopo una settimana il fatto è che stiamo diventando dei bulimici costanti ed è un meccanismo strano mangiamo troppo mangiamo male un giorno mangi un panino di corsa al bar il giorno dopo vai al ristorante quando usciamo dal ristorante non senti mai nessuno che dica ho mangiato il giusto che bella cena frugale mi sento sazio ma non appesantito devi uscire dicendo madonna non ce la faccio più sto per esplodere e vieni a vomitare e così mentre dovremmo mangiare 1500-2000 calorie al massimo al giorno spesso senza accorgersene buttiamo giù 3-4 mila e ingressiamo la situazione più drammatica è negli Stati Uniti dove pensate su 5 adulti 3 sono in grave sovrappeso uno un grande obeso parliamo anche di persone di 150-200-300 kg i bambini in America uno su due obeso in sovrappeso voi dite sì ma noi siamo in Italia abbiamo la dieta mediterranea siamo a 16 milioni di persone in sovrappeso 5 milioni di obesi scusate ho usato il termine obeso sovrappeso sapete no la differenza forse un po' troppo sai differenza obeso sovrappeso sovrappeso per capirci vuol dire che se monti sopra una ragazza lei sospira e poi ti dice no guarda sto sopra io obesità che se monti sopra una ragazza lei sospira poi non dice più niente ora come è possibile che siamo arrivati a questo livello a me fa ridere Marchione che ha pensato di lanciare la 500 negli Stati Uniti perché un americano in una 500 lo metti fin da bambino in macchina poi lo fai crescere lì oppure devi farla col tettuccio apribile poi lo cali dall'alto ma anche noi non siamo messi bene e c'è da chiedersi perché perché se fate caso in natura non ci sono animali che di per sé sono grassi no? il grasso c'è ma ha una funzione specifica isolamento termico il tricheco è grasso per isolamento termico Giuliano Ferrara non è che dorme nudo sulla banchisa polare per capirci l'orso ingrassa va in letargo smaltisce il commercialista non è che ingrassa se sveglia maggio fa gli anticipi dell'età se torna a dormire sei mesi allora perché? beh semplicemente perché il nostro corpo è fatto per accumulare grassi in passato le carestie erano più frequenti nei momenti di abbondanza chi aveva capacità di accumulare grasso sopravviveva però in passato tutto era più complicato al tempo dell'uomo delle caverne volevi mangiare un coniglio dovevi cacciarlo una grigliata mista sette mesi di caccia un culo così con arco e frecce capite? l'uomo di Cro-Magnon consumava 1500 calorie all'ora quello che noi consumiamo in un giorno lui lo consumava in una sola ora tutto era difficile valeva una caverna più grande non è che andassi dal vicino di caverna cioè ci andavi ma il vicino di caverna non ti diceva prego si accomodi la manda all'agenzia immobiliare perché spesso il vicino di caverna era un orso che diceva che culo il pranzo mi è arrivato a domicilio e quindi consumavamo per forza energia per sopravvivere oggi è diverso oggi abbiamo il cibo a portata di mano spesso abbiamo i cibi pronti basta scaldarli un attimo nel microonde il risultato è che mangiamo troppo oramai fa più morti il cibo del fumo e del tabacco si calcolano 400.000 morti all'anno negli Stati Uniti per problemi di obesità il massimo della sfiga è il fumatore obeso che ha la stessa aspettativa di vita di un turista curioso in un laghetto di Caimani bello e noi siamo avvantaggiati non abbiamo più i problemi dell'uomo delle caverne abbiamo il cibo a portata di mano ne abbiamo troppo se anche ci mettiamo a dieta vai a dormire che se senti morsi della fame dentro ti sembra che il salame ti chiami dal frigo vienimi a mangiare vienimi a mangiare così ti alzi e lo mangi per non pensarci più io sono convinto che in futuro metteranno dei frigo con la password che tua moglie te la cambia prima di andare a dormire così quando alle 3 di notte hai un attacco di fame vai lì, provi tutte le combinazioni poi non so data di anniversario compleanno matrimonio vai da lei e dici amore ma che cacchio di numero hai messo 586 cos'è? i tuoi valori di colesterolo pirla forse così la fame ti passa forse arriveremo al frigo velox che è un frigo con su una fotocamera che appena apri la porta ti fa la foto il giorno dopo c'è la prova tuo moglie ti fa un culo così per eccesso di voracità però non ci sappiamo più contenere sì questo è un dato di fatto c'è gente così dipendente dal mangiare che se ha un infarto sente un dolore qua dice subito minchia c'è un vuoto allo stomaco però più in alto ma dipende solo da noi allora voglio farvi una domanda non so se starò nei tempi perché deciso di cambiare un po' di cose all'ultimo minuto come sempre voglio farvi una domanda e voglio chiedervi che cos'hanno in comune queste cose che vi leggerò per esempio una coca cola di quelle statunitensi una barretta di mass una birra un whisky un tubetto di maionese delle crocchette di pollo una bomboletta di panna spray dei cornflakes una merendina una confezione di vitamina c un barattolo di senape un dentifricio cos'hanno in comune queste cose lasciate stare che sono tutte prodotte da multinazionali lasciate stare che per produrle ci vuole acqua energia tutte queste cose hanno in comune un ingrediente di partenza tempo fa quando andavo in giro a fare gli spettacoli in macchina in treno guardando fuori dal finestrino ogni tanto vedevo chilometri chilometri di grand tour con lungo le strade e ogni tanto mi chiedevo ma quanti cacchio di pop corn vendono le multisale perché noi la polenta qualche volta la mangiamo ma non così frequentemente è vero che se ci pensate nelle multisale si partite dal bicchierino così di pop corn adesso vendono quello alto così che secondo me le coppie lo usano perché ci vanno dentro a limonare con un po' di privacy poi mi sono accorto che oggi il mais per esempio nell'alimentazione è pressoché dappertutto per darvi per darvi un'idea serve come mangime per gli animali di allevamento per fare l'etanolo che mettiamo nella benzina delle nostre auto si usa di olio di mais per friggere nei fast food olio di mais idrogenati sostituiscono il burro nei dolci il burro di cacao nel cioccolato il mais praticamente dappertutto il mais lo usi per fare il caramello a livello industriale l'alcol del whisky e di molti tipi di birre oggi deriva dal mais se fate caso leggete spesso grits di riso grits di mais le birre più industriali usano l'alcol prodotto col mais il metodo tradizionale si usa quasi solo più nelle birre artigianali perché costa meno col mais fai gli ingredienti di molti dei nostri cibi tipo acido citrico lattico ascorbico lisina glucosio fruttosio maltodestrine potrei andare avanti per ore persino glutamato monosodico quello che serve a dare sapore di carne al dado si fa col mais e anche la vitamina C che voi comprate dai farmacisti non è mica fatta con la spremuta d'arancia di limone deriva dal mais forse il prossimo film di James Bond sarà mai dire mais il mais è praticamente ovunque se poi comprate una crocchetta di pollo sogelata il mais è nutrito il pollo nell'amido modificato che fa da collante tra pollo e impanatura la crocchetta impanata in una farina derivata dal mais il colore che serve a dare il colore dorato alla crocchetta deriva dal mais verrà fritta in un fast food in olio di mais il mais è ovunque ora non sto dicendo questo perché il mais fa male il mais fa male no se non ti siedi proprio sopra la pannocchia no però mangiamo delle cose che contengono bene o male sempre gli stessi ingredienti posso fare questo discorso per il mais per la soia per il grano mangiamo cose sempre più differenti solo per il colore della confezione i nostri antenati mangiavano centinaia di tipi di vegetali diversi noi mangiamo cinque sei tipi di vegetali in confezione di colore diverso così siamo contemporaneamente sovralimentati e malnutriti che è un po' come essere super dotati ma impotenti cioè onestamente cosa ti serve averlo lungo due metri poi molla e cinciampia dentro sarà una metafora poco carina ma da l'idea allora mangiamo sempre più cibo che è un prodotto della chimica dell'industria e non un prodotto dell'agricoltura quindi questa sera fondamentalmente sono qui per commentare un decalogo che ha scritto Michael Pollan che ha scritto un libro straordinario che è il dilemma dell'onnivoro e lui dice che dobbiamo incominciare a mangiare meglio e dice fondamentalmente che dobbiamo ricominciare a dedicare tempo al cibo perché oggi noi facciamo noi stessi noi facciamo noi stessi quello che abitualmente facciamo alla nostra macchina il pieno con una differenza che la nostra macchina non è che ogni volta che fai il pieno ingrassa di un chilo noi invece sì ho comprato una smart un anno fa a forza di fare benzino una station wagon ecco a noi succede e Pollan dice dobbiamo ricominciare a dedicare tempo al cibo perché noi ci siamo abituati al ritmo del fast food che non è solo mangiare da Mc Donald fast food è il ritmo della velocità della televisione è il ritmo del quattro salti in padella quattro salti vedi già ti dà l'idea della velocità non è ultimo tango in padella non è ballando sotto le crespelle sono quattro salti che poi sono anche un buon prodotto vai al supermercato dici però cacchio è caro e compri il suo erogato lo costi tappe in casseruola cancanna il tegame la mazzurca del pentolino roba che se leggi gli ingredienti puoi chiamare quattro scarti in padella dedicare tempo al cibo dice Pollan vuol dire comprare gli ingredienti freschi e cucinare tu questo se sai cucinare se no meglio quattro salti in padella che quattro ore di lavanda gastrica però tendenzialmente noi compriamo cibi pronti che costano di più buttiamo via il pane secco compriamo il pane già grattato l'insalata già lavata tutta roba che costa di più per cui devi lavorare di più per guadagnare di più per comprare cose che costano di più perché abbiamo fretta io ogni tanto mi chiedo quanto cazzo ci costa la fretta al chilo l'insalata già lavata in media costa dieci volte di più di quella da lavare poi vai a casa è scritto piccolo sulla confezione in fondo c'è scritto per sicurezza è meglio rilavarla cacchio l'ho pagata dieci volte di più è come se vai al ristorante il proprietario ti dice guardi non so se il cuoco ha le mani pulite per sicurezza meglio che cucini lei e già che qui dia una spazzata locale perché l'igiene fa schifo dedicare tempo al cibo dice Pollan vuol dire mangiare cibo fresco di stagione possibilmente chilometri zero locale non come fa il mio amico Mario che dice ma io mangio chilometri zero scendo sotto casa e mangio da McDonald's ce l'ho lì dedicare tempo al cibo vuol dire mangiare frutta e verdura possibilmente bio perché ci dicono sempre la parte migliore della frutta nella buccia ma quasi mai ci dicono anche la parte peggiore della frutta è nella buccia i dati anche di lega ambiente se volete vi leggete i rapporti ci dicono che ci sono troppi residui di pesticidi sulla nostra frutta sulla nostra verdura e capisco voi state pensando la frutta e la verdura beh insomma la lavo chiaro è vero la lavi con la mucchina la lavi col bicarbonato in ogni caso non basterebbe perché l'unica cosa che serve per eliminare i residui dei pesticidi della frutta e verdura sarebbe irradiarla con isotopi radioattivi allora lì o sei zichichi o tutte le volte che vuoi mangiare una mela bombardarla con radiazioni atomiche non è comodissimo è vero che la tecnologia avanza un acceleratore di particelle in cucina chi non ce l'ha lo fa anche la mullinex però se non ce l'ha fresca bio e di stagione non stagionata perché in frigo da quattro mesi la frutta la verdura che noi compriamo nei supermercati spesso ha percorso duemila chilometri è selezionata per essere bella per durare a lungo non per essere buona certo dura tantissimo infatti mia madre nel centro tavola ha sostituito la frutta in ceramica con quella vera perché dice che dura di più io però mangio la frutta in ceramica perché ha più vitamine tra l'altro molto comodo con l'uva perché la mangi la espelli la lavi la rimetti lì un po' più scomodo con le arance e le mele non vi consiglio le angurie dedicare tempo al cibo dice Pollan vuol dire vuol dire per esempio essere disposti a pagare il cibo il giusto perché noi facciamo degli strani risparmi è capitato anche a me un giorno ero di corsa al supermercato petto di pollo poi dico guarda ci sono le crocchette di pollo sono già pronte sono anche in offerta le compro vado a casa leggo gli ingredienti addensanti conservanti emulsionanti pollo 49% pollo 49% vuol dire che il 51% non è pollo è come andare a letto con un travestito il 51% non è donna ma non è esattamente la stessa cosa e questo lo dico con tutto il rispetto per i travestiti perché noi a volte siamo convinti di risparmiare perdiamo in qualità e Pollan dice anche due o tre cose che secondo me sono bellissime dice non comprate cibi che non vanno mai a male perché se un cibo non va male è pieno di conservanti e questi si sa non fanno bene dice non comprate mai cibi con più di cinque ingredienti perché se un cibo ha più di cinque ingredienti è troppo chimico troppo lavorato e dice una cosa secondo me straordinaria non comprate mai cibi che la vostra bisnonna non vostra nonna la vostra bisnonna non riconoscerebbe come cibo noi abbiamo dei cibi che non sappiamo più che cosa sono lo spunti che cacchio è lo spunti le spalmose io la prima volta che ho visto le spalmose ho detto ma che protezione solare hanno prendo la Nivea che vado sul sicuro e dice anche difidate di tutti quei prodotti che in qualche modo ti pubblicizzano effetti sulla salute perché quasi sempre sono presi in giro in effetti è pieno di dadi light che sono comunque fatti di sale e glutammato ci sono dei pensionati che dicono ma si vado a dormire dopo un brodino light e vanno a dormire con la pressione più alta delle gomme di una Ferrari prendiamo i cracker light light vuol dire che hanno meno grassi del prodotto originale poi per dargli gusto aggiungono gli zuccheri il valore calorico pressoché è uguale guardatevi i dati di altro consumo ma è light tu dici mangio i cracker light ne mangio due pacchetti tanto sono light e prendi 5 kg light e pensi anche chissà come ingrassavo con quelli normali perché ormai crediamo alle fabole un giorno saremo al ristorante e ci diranno non si preoccupi della dieta abbiamo il cotechino light come lo fate? abbiamo un allevamento di maiali anoressici light vuol dire leggera presa per il culo e dice poi diffidate anche di tutti quei prodotti di cui non sapendoti cosa dire ti dicono può far bene alla salute l'acqua minerale che può far bene al fegato può far bene anche i bicipiti prendi 4 casse fai sollevamento l'acqua che può favorire la diuresi cacchio è acqua cioè capite che se non favorisce la diuresi l'acqua e come scrive sul sapone può favorire l'igiene è esattamente la stessa cacchio favorisce la diuresi allora la prendo noi che ridiamo alle favole oppure diffidate di quei prodotti di cui ti dicono è naturale perché naturale non vuol dire niente anche l'arsenico è naturale l'uranio è naturale anche l'etame è naturale ma non per questo non lo mangi ma noi crediamo nel prodotto naturale che poi se leggi gli ingredienti certi prodotti sono sovranaturali però voglio dire naturale e allora vai al supermercato e trovi la torta della nonna buonissima fatta come la faceva la tua nonna tutta naturale ed è fantastica poi ti giri e sulla parete del supermercato c'è nei 5.000 di torte della nonna tutte uguali che mi chiedo ma quanto cacchio lavora sta nonna anche loro bastardi far lavorare così una donna anziana gente così capace che mentre lei lavora a fare la torta sono lì le fregano la pensione le nascoste se la giocano le slot machine trovi un dito nella zuppa del casaro se ti vai a lamentare ti dicono ma sai naturale la fa il casaro con le sue mani e nella pubblicità dopo c'è il casaro che dice assaggiate la mia nuova zuppa tutta naturale ben 9 ingredienti naturale non vuol dire niente allora cosa possiamo fare forse possiamo smetterla di farci prendere in giro e evitare di comprare le cose che non ci servono quando non ci servono evitare se non ci serve di cambiare il computer la macchina il televisore iniziare a cambiare abitudini mentalità modo di mangiare modo di consumare forse possiamo da domani cambiare un po' il mercato grazie 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 grazie